Ok, allora, magari non tutti ne hanno sentito parlare, presumo la maggior parte sì, quindi partiamo da una breve definizione. Allora, che cos'è un linguaggio di programmazione cosiddetto esoterico? Allora, è un linguaggio di programmazione che deve avere, diciamo, queste due caratteristiche. Innanzitutto una sintassi particolare, bizzarra, strana, e poi non deve essere stato inventato per uno scopo pratico, ma piuttosto per uno scopo di divertimento, artistico, sfida personale, autolesionismo, vedete voi, insomma. Il primo, il più antico che si conosce è l'Intercal, sviluppato nel lontano 1972 dagli studenti universitari. e poi in realtà la maggior parte di quelli che sono ancora oggi più famosi è stata, diciamo, inventata negli anni 90-2000 e poi in realtà c'è stata un'esplosione perché ovviamente capite che ognuno può svegliarsi la mattina e dire ho inventato un nuovo linguaggio esoterico, quindi adesso ce ne sono migliaia e c'è questo sito, questa wiki, che tenta più o meno di raccoglierli tutti, se siete interessati andate a darci un'occhiata. Allora, non vi parlerò dell'Intercal, ma è più o meno d'obbligo partire col brainfuck, che è il più famoso di tutti. Noto per il suo estremo minimalismo, ha solo otto istruzioni, che sono formate da otto caratteri di fatto, qui ne vedete solo sette, manca la virgola che è l'input, e comunque questo qua stampa ciao a tutti, questo è il brainfuck. Avendo solo otto istruzioni è sufficientemente semplice da spiegare, ovviamente non altrettanto semplice da utilizzare, soprattutto da utilizzare per farci qualcosa di utile, di concreto. Quindi vediamolo brevemente, visto che è semplice da spiegare appunto. Allora, il brainfuck lavora su una struttura dati che è di fatto un array, teoricamente infinito, poi ovviamente dipende dall'implementazione, le cui celle vengono inizializzate tutte a zero, e c'è un puntatore che indica la cella corrente, quella sulla quale si va a lavorare. Allora, il codice ha delle istruzioni molto semplici per l'input e l'output, l'input è la virgola, l'output è il punto. Quindi supponiamo di avere un pezzo di codice composto da virgola, punto, la virgola è l'input, e supponiamo di avere un utente che dà come input la lettera A, poiché il codice ASC della lettera A è 65, nella cella corrente, nella prima cella, verrà inserito il numero 65. Dopodiché viene eseguita l'istruzione punto, quindi l'output, e a quel punto stamperà di nuovo la lettera A. Poi abbiamo delle istruzioni per muoverci lungo l'array, il maggiore sposta il puntatore a destra, il minore sposta il puntatore a sinistra, abbiamo un'istruzione di incremento che è il più, quindi se la cella inizialmente valeva 0, scriviamo 3 più all'interno del codice, quella cella varrà 3. Stessa cosa per il decremento, abbiamo un meno, quindi torniamo a 0 con i 3 meni. E infine abbiamo i loop, i loop sono raggruppati da parentesi quadre, e tutto quello che sta tra le parentesi quadre viene ripetuto finché il valore della cella corrente non vale 0. Quindi vediamo un brevissimo esempio, adesso andremo a vedere un loop che va a spostare il valore dalla prima cella alla seconda. Quindi inizializziamo una cella al valore 3, entriamo nel loop, il primo pezzo di istruzione del loop è spostati a destra e incrementa di 1. Step successivo, spostati a sinistra e decrementa di 1. Il loop va avanti, quindi incremento da una parte, decremento dall'altra, incremento e decremento, e il loop è concluso perché la cella a questo punto vale 0, quindi esco. Quindi questo è tutto. A questo punto voi sapete ufficialmente programmare in BrainFack. Potete notare che c'è un'istruzione while, non c'è alcun tipo di istruzione condizionale if-else, però in realtà non serve, nel senso che è perfettamente possibile costruire degli if-else usando solo un while diverso da 0, come in questo caso qua. Avete sul sito che ho menzionato prima, l'esolanks, c'è tutta una lista di pezzi pronti che vi spiegano come fare un if-else usando solo un while in BrainFack. Prima di parlarvi di altri linguaggi vorrei introdurre un altro argomento, una terminologia, che è l'esoteric subset. L'esoteric subset non è un linguaggio vero e proprio, ma è un modo esoterico di scrivere un linguaggio esistente e tipicamente si fa limitando il numero di caratteri che possiamo utilizzare per scrivere quel linguaggio. Tra i vari linguaggi esistenti ce n'è uno in particolare che è particolarmente malvagio nell'uso dei cast, nell'uso di certi operatori. Quindi immagino che starete già intuendo di quale linguaggio sto parlando e ovviamente è stata molto, questa sua caratteristica era proprio comoda per trasformarlo in un esoteric subset e ovviamente sto parlando di javascript. Questo qui è detto JSFack, visivamente è simile al BrainFack, anche se in realtà concettualmente è molto diverso, su una somiglianza estetica. e che ci crediate o no è codice javascript perfettamente valido e stampa la scritta ESC, in minuscolo però perché il maiuscolo sarebbe stato molto più verboso. E ha solo sei istruzioni, quindi è ancora più minimale rispetto al... ha solo sei caratteri, quindi è ancora più minimale rispetto al BrainFack. Giusto così intuitivamente come funziona. Ovviamente sulle stranezze di javascript, per cui per esempio in javascript voi potete scrivere più array vuoto e il risultato è 0 e fin qua potrebbe ancora starci. Array vuoto negato da false. Se prendiamo questo array vuoto negato e ci sommiamo un altro array vuoto da false come stringa. A questo punto noi possiamo prendere questa stringa, trattarla come un array e usare quindi le parentesi quadre per trattarlo come array e prendere il primo elemento usando il punto 1, quindi quello lì lo 0 e otteniamo la lettera F. Iteriamo questa cosa, pian pianino riusciremo a ottenere di fatto tutte le lettere mancanti, tutti i caratteri e costruire codice javascript arbitrario. Ci sono dei tool online che vi fanno in automatico questa traduzione da codice javascript standard a JSFAC. Mi pareva interessante menzionarvelo perché è praticamente l'unico caso in cui una scrittura esoterica ha avuto un utilizzo pratico ed è stato un attacco cross-site scripting sul sito di ebay nel 2016. Praticamente gli sviluppatori dell'epoca hanno avuto questa brillante idea invece di andare a impedire che un utente possa fare injection di javascript all'interno del sito hanno detto vabbè ci mettiamo un filtro che toglie da tutte, fa lo strip di tutte le lettere, di tutti i numeri e dal codice javascript iniettato. Questo ovviamente rende non funzionante il 99,9% del codice però ovviamente il JSFAC non è composto né da lettere né da numeri e quindi riuscite a infilarci dentro. Sembrerebbe che ci ha messo più di un anno a chiudere il bug perché evidentemente era molto importante per loro poter iniettare qualcosa. Ok, cambiando categoria passiamo ai cosiddetti linguaggi bidimensionali quindi sono linguaggi in cui il codice viene inserito all'interno di una griglia e quindi il flusso del codice può proseguire in due direzioni o anche in diagonale, orizzontale, verticale o anche in certi casi diagonale. Tra questi uno di quelli che ha avuto più successo è il cosiddetto Bifange non so bene se la pronuncia sia proprio giusta e qua vediamo un altro programma che stampa la scritta ESC adesso vediamo anche, ho messo una linea per indicare quello che è il flusso del codice si parte sempre dall'angolo in alto a sinistra e poi ci sono degli operatori che si possono usare come se fossero delle frecce quindi la V, il maggiore e il minore sono delle frecce che vanno a spostare il flusso del codice e si termina con la chiocciola quindi la chiocciola indica la terminazione del programma in questo caso in alto a destra tutto quello che è area della griglia non utilizzata si può utilizzare per inserire materiale riempitivo come può essere della Sheart o anche si può utilizzare, tra un attimo lo vedremo meglio per inserire dei dati per esempio quindi si può usare anche come area di memorizzazione lo spazio vuoto invece non viene interpretato quindi tutto quello che è spazio vuoto semplicemente va avanti è più semplice rispetto al brainfack perché qui lo potreste magari notare sapendo che stampa ESC e vedendo il flusso del programma che è stack based quindi è basato su uno stack perché si vede? perché se notate si parte dalla C quindi in fondo allo stack poi viene messa la S poi viene messa la E e poi faccio il pop dalla pila quindi ci sono quelle tre virgole che sono le istruzioni che prelevano dalla pila e stampano sull'output ovviamente poter lavorare su uno spazio bidimensionale apre la strada ad ulteriori stranezze come il fatto di avere due IF un IF verticale e un IF orizzontale in base a dove volete far andare il vostro flusso di codice quindi diventa presto molto incasinato anche da gestire graficamente come volete farlo un'altra caratteristica simpatica del Bifange è il fatto di essere automodificante quindi ci sono delle istruzioni per dirgli dimmi qual è il codice nella cella XY oppure inserisci nuovo codice nella cella XY quindi cambiare al volo le istruzioni inoltre come ho detto prima si può andare a usare le aree della griglia dove il flusso del codice non passa e siccome possiamo scrivere codice in realtà possiamo anche abusare di questa funzionalità per scrivere dei caratteri che andremo a trattare non come codice ma come dato e questa cosa qua ci viene molto comoda per realizzare dei quine artistici che cos'è un quine? un quine è un codice è un programma il cui output è identico al suo stesso sorgente ovviamente non vale leggere il file del sorgente su disco e stamparlo bisogna proprio ragionare in modo che il codice stampi se stesso e si può fare in qualsiasi linguaggio qui vedete un esempio in Python il nome deriva da un filosofo americano che ha fatto un paradosso basato su una frase che referenziava se stessa per cui si chiama quine e viene più comodo con linguaggi che hanno costrutti tipo Eval però in realtà si può fare anche con Java anche con qualsiasi linguaggio in Bifang si possono fare dei quine di questo tipo sfruttando la funzionalità appunto della lettura e della modifica della griglia in sé in realtà qui c'è molta parte che è solo testo riempitivo diciamo dato che viene letto e possiamo evidenziare quello che è il flusso del codice che è questo qui quindi di fatto qua solo la parte in arancione è parte che contiene logica che viene eseguita tutto il resto è parte di riempitivo che viene però letto e interpretato poi in realtà ci sono quelle due celle gialle in alto a sinistra che sono una via di mezzo nel senso che sono celle che io uso anche per memorizzare un dato che in quel caso lì è la posizione XY del punto in cui viene diciamo la cela corrente su cui sto lavorando che sto leggendo per stampare l'output quindi se voi date in pasto questo a un interprete Bifang questa roba qua stampa esattamente se stesso notate che il flusso del codice a un certo punto raggiunge il fondo della griglia e poi riparte dall'inizio quello lì è un loop ci sono due loop perché c'è appunto un loop per la colonna è un loop per la riga e termina al centro dove c'è quell'etta alla fine rimanendo in questo ambito ma cambiando leggermente un altro molto bello è il Piet che il cui nome deriva da Piet Mondrian che è quell'artista che fa opere d'arte fatte a quadratoni colorati per intenderci e Piet appunto memorizza le istruzioni sotto forma di quadrati colorati i detti codel tipicamente vengono poi memorizzate in delle immagini PNG in cui ogni pixel corrisponde a un codel fondamentalmente anche qui si parte dall'angolo in alto a sinistra e poi si possono cambiare direzione in vari modi e ci sono 20 colori che si possono utilizzare allora uno magari pensa che ad ogni istruzione corrisponde cioè ad ogni colore corrisponde a un'istruzione in realtà questo sarebbe stato troppo semplice e quindi in realtà un'istruzione è mappata da un cambio di luminosità o di tonalità rispetto al blocco colorato precedente per cui ad esempio in questo caso qua si parte, anche questo stampa ESC si parte dal blocco colorato in alto a sinistra che è quello giallo quello giallo ha 7 codel e il blocco subito successivo è quella specie di L con un giallo un po' più scuro il fatto che si passi da un giallo chiaro a un giallo scuro quello lì è un'istruzione di push sullo stack però se io partivo dal rosso sarebbe stato dal rosso più chiaro al rosso più scuro quindi è un cambio di luminosità in questo caso e quello lì fa il push sullo stack del numero di codel del blocco precedente quindi in questo caso fa il push dello stack del valore 7 e così va avanti tutte le varie istruzioni in realtà questa non è la parte peggiore perché la parte peggiore è riuscire a terminare il programma perché non c'è un'istruzione specifica per la terminazione del programma bisogna fare rimbalzare quello che è il puntatore al blocco successivo per almeno 8 volte all'interno dello stesso blocco di colore ed è il motivo per cui c'è al centro quella C di fatto quella roba lì è una specie di trappola per il puntatore in modo che rimbalzi almeno 8 volte sulle varie pareti e se notate i vari programmi in pietta hanno spesso magari al centro in delle zone un buco dove va per andare a terminare il programma questa è la cosa più complicata poi un altro carino è il whitespace questo qui è codice whitespace valido se non vedete niente è perché manca il syntax highlighting quindi abilitiamo il syntax highlighting e questo qui non stampa S che è un pezzo di Hello World perché è molto verboso come potreste intuire dal nome il codice whitespace è codice composto da istruzioni fatte solo da spazi, tab e newline quindi insomma ovviamente è fatto così ovviamente anche qui non ha alcun tipo di senso però ho trovato un lavoro di tesi interessante di un tizio che proponeva, ipotizzava insomma di poterlo utilizzare per infilare del malware non rilevabile da un ipotetico antivirus all'interno di un codice cosiddetto poliglotto il codice poliglotto sarebbe un file contenente codice che è valido in più linguaggi diversi quindi in questo caso vi potreste interlacciare del codice C a del codice whitespace perché in whitespace qualsiasi carattere che non è appunto uno spazio, un tab o un newline è interpretato come ignoralo quindi è un commento di fatto viceversa in C qualsiasi cosa che è whitespace è un commento per cui le due cose sono perfettamente interlacciabili ovviamente era un lavoro teorico insomma non credo abbia avuto particolari evoluzioni però come spunto può essere interessante infine questa l'ho aggiunta qui all'ESC c'è un linguaggio chiamato Monicelli appunto in tema ESC che anche questo stampa ESC è logicamente un po' più semplice in realtà potremmo inquadrarlo in quelli che vengono detti weirdlang quindi è un linguaggio che rispecchia la struttura dei linguaggi tradizionali nel senso che ci sono i while ci sono le variabili per cui non ha niente di esoterico dal punto di vista della programmazione ma esoterico dal punto di vista dei nomi utilizzati per raffigurare il codice quindi si inizia con lei a clacsonato voglio è il modo di definire una variabile maschetti è il tipo char e 69 in questo caso è il come se fosse 69 indica il fatto che la inizializziamo al valore 69 che è la lettera E in asci e quindi di nuovo poi stamperà la lettera E e le varie lettere di ESC va a fan zoom è un return quindi non era diciamo obbligatorio in questo caso mi pareva carino lasciarlo lì insomma e va bene niente io con questa ho finito se avete qualche curiosità non è una domanda vera e propria volevo solo aggiungere non so se la conoscevi già c'è un linguaggio che si chiama power chord e si basa sugli accordi in sostanza ah scusami power ballad no era sul testo sul testo di power ballad ma ce n'era uno che si basava anche sulla musica se non erro adesso mi sfugge però e ce n'era uno che sembrava appunto ah no scusami rockstar ecco come si chiamava perché il tizio ha iniziato con dire io voglio scrivere che sono un rockstar developer e quindi si è inventato il linguaggio chiamato rockstar che si legge come è un weird lang quindi è come le power ballads diciamo metallare ok questo non conoscevo sì 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 ce ne sono migliaia quindi sì e invece aggiungo una cosa io però c'è un'altra domanda e dopo aggiungo una cosa Michele grazie che hai parlato di linguaggi davvero fantastici volevo chiederti ci sono prove che il linguaggio Pierre sia utilizzabile anche dagli uomini? beh sì ho scritto ESC quindi beh tu hai scritto ESC dagli uomini di sesso maschile proprio quelli che vedono meno colori intendevo dire ah questo è interessante effettivamente tecnicamente lo puoi ci sono vari formati uno il PNG ma puoi anche esportarlo in Asci Piet quindi tecnicamente anche un daltonico o completamente cieco ai colori potrebbe scrivere in Piet usando l'Asci Piet altre domande? non ci sono domande ma volevo aggiungere su Monicelli che noi io ho passato due mesi per tampinare l'autore di Monicelli che era uno studente del Politecnico per invitarlo all'ESC del decennale del 2014 e alla fine mi aveva detto di sì però alla sera del sabato che era tipo una sedata tipo questa poi alla fine mi ha detto ah non sono riuscito a prendere il treno e quindi tutti l'aspettavano e lui ci ha paccati ed allora è finita così comunque Monicelli è rimasto e stasera l'abbiamo rivisto così come se fosse intani grazie a Sonia per aver condiviso questa esperienza un grande applauso per lei grazie a tutti